lunetta savino nata nel 1957 è un'amatissima attrice italiana con una lunga carriera di successi teatrali cinematografici e televisivi tra i suoi ruoli più iconici ricordiamo cettina in un medico in famiglia vincenzina mennea in pietro mennea la freccia del sud e la madre di impastato in felicia impastato tra i suoi ultimi successi anche quello di libera orlando nella fiction libero in onda su rai 1 nel 1994 ha divorziato dall'attore franco tavassi con cui ha avuto un figlio nel 1988 attualmente è legata sentimentalmente al saggista e giornalista saverio lodato con cui ha iniziato una relazione nel 2015 saverio lodato classe 1951 è un noto saggista e giornalista esperto di temi legati alla criminalità organizzata il loro amore è nato nel 2015 sul set del film felice impastato dove lunetta era l'attrice protagonista e saverio lo sceneggiatore nonostante la distanza dovuta ai loro impegni lavorativi e alla residenza in città diverse i due continuano a coltivare la loro relazione io e saverio facciamo tanti viaggi per stare insieme qualche volta viene lui da me qualche volta vado io da lui spesso partiamo insieme per altre mete è una storia in cui ognuno di noi ha i propri spazi ha dichiarato l'attrice lunetta savino e saverio lodato vivono un amore intenso e duraturo nonostante le difficoltà della distanza la loro storia è un esempio di come l'amore può sapere su parte scala il la il 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 Grazie a tutti.